Abbiamo come organizzatori ricevuto grandi applausi, complimenti di tutti i regattanti e questo non fa altro che soddisfare le nostre speranze, nel senso che noi ce la mettiamo tutta per fare dei campi tecnici, è stato ribadito che ci siamo riusciti e quindi questo ci rende molto orgogliosi. Abbiamo anche la fortuna di avere il porto di Lavagna, la società che lo gestisce, che ci lascia a disposizione dei posti barca gratuiti per i concorrenti che vengono da fuori Golfo Tiguglio e questo consente anche di avere un bel numero di partecipanti che oramai è consolidato dalle 40 alle 50 imbarcazioni. Il piatto invernale è stato splendido, abbiamo partecipato a moltissime edizioni, questa direi è veramente una delle più belle, condizioni meteo molto belle, sempre vento, tante prove, anche veramente devo dire molto ben organizzate, campi messi giù molto bene. Ci siamo divertiti, competizione molto intensa, è anche andata bene, abbiamo vinto la classifica di classe overall e ci spiace sia finito, sono state molte prove molto molto divertenti. Abbiamo appena completato il campionato invernale del Tiguglio, vinto, felici e contenti, abbiamo fatto delle belle regate, siamo riusciti quasi a fare una striscia perfetta di tutti i primi, ci è ne mancata una sola ma sicuramente una soddisfazione notevole, avversari che conosciamo bene, che ci hanno comunque messo anche in difficoltà e ci hanno costretto a impegnarci fino all'ultimo, è stato un bel campionato, campionato che ha avuto vento, che ha avuto anche bel tempo, non è vero che l'invernale del Tiguglio solo si prende il freddo, ci si diverte e noi ci siamo divertiti veramente tanto questa volta. Uno dei più belli dell'Alta Italia a livello nazionale, la nostra imbarcazione è andata direi bene, ha vinto, è stato combattuto con un corto maltese fino all'ultima regata, però alla fine l'abbiamo spuntata e abbiamo fatto delle belle prove. Devo dire che è stato organizzato in maniera eccezionale, l'amico Noceti è sempre molto in gamba, sia nei momenti dell'allinamento, delle partenze, delle boe, dei campi di regata, questo anche che da sempre questo campionato è molto considerato e molto valido. Le imbarcazioni erano notevoli, il vento ci ha assistito, non proprio sempre però anche oggi, anche ieri ci sono state delle regate con molto vento, poi è calato ma fa parte un po' della tradizione qui nel Golfo del Tiguglio e non solo qui. Devo dire quindi che questo sport è molto bello, è molto interessante, è a portata di tutti, un posto in barca si trova dappertutto anche se non si ha la barca e siamo molto contenti e speriamo che anche negli anni futuri, anche se non siamo più giovanissimi, poter regatare e vincere delle belle regate.